e ad una settimana esatta dal grande evento che si susseguirà nella paradise disco sempre a montareale in valcellina abbiamo accanto a noi questa sera mattia intervisto io come vedete oggi è lui l'intervistato per la prima volta quest'anno una delle piccole volte quest'anno scatta il caso scoppia il caso il caso corona perché fra una settimana sapete che nelle sale del paradise arriva a fabrizio corona esce un articolo sul messaggero veneto studenti contro corona ma che succede ma allora l'altro ieri praticamente visto che non siamo in diretta allora è uscito un articolo sul giornale sul messaggero veneto ce l'ho qui davanti vedete ve lo inquadra matteo ok c'è scritto appunto studenti contro corona petizione di firme contro il suo arrivo 19 aprile e sottotitolo allora praticamente studenti non ce ne sono contro corona questo sembra quasi di essere la striscia notizia svegliamo il retroscena perché questo articolo è stato scritto da una persona che si firma c.b. che non è la sigla del radio dei camionisti ma è questa questa giornalista che è una donna ok questa donna non dico il nome qui davanti a voi c'è a telecamere però ne avrà notizie questa insegnante scrive anche sul messaggero veneto allora praticamente un po come si dice come fanno i muratori se la fa e se la petano allora ha fatto questo questo articolo denunciando che i studenti hanno sottoscritto questa petizione non è vero niente la petizione ha sottoscritta l'insegnante e praticamente ha avuto un scarsissimo successo da parte degli studenti perché lo si sa sicuramente magari più giovani ammireranno forse anche un personaggio del genere che poi sia da ammirare o meno è giudizio di ogni singolo personaggio queste sono le cose comunque iniziali che posso dire poi per quanto mi riguarda il resto io non devo fare nessuna accusa solamente una mi permette di farla nei confronti di questa insegnante che visto sempre nella stessa pagina c'è un altro articolo grande con scritto troppi insegnanti minati dallo stress allora scacate proprio a fagiolo sopra il sottotitolo c'è scritto il segretario provinciale dello snals boscaino in media ha problemi un docente su dieci e questo è uno dei dieci non sappiamo peccato quello che aveva problemi su dieci praticamente a me fa so che piacere comunque si è fatto un po di pubblicità in più perché comunque si sa che se ne parla male o se ne parla bene basta che se ne parli se ne parla sicuramente e noi come locale facciamo parlare la stagione che facciamo parlare il personaggio sicuramente farà parlare e fa parlare di sé dentro fuori della televisione o dentro fuori dei tribunali comunque ne fa parlare solamente una cosa signora insegnante non possiamo fare questi articoli in cui denunciamo una persona la mettiamo la gogna mettiamo la gogna dicendo appunto che di boicottare di tour la serata discoteca quando effettivamente questo questo uomo comunque fabrizio corona che io stesso conosco dunque prendo un po le sue difese questo uomo non è ancora stato condannato in niente da nessuna parte ora potrebbe essere lui potrei essere io potrei essere tu pasquale potre potresti potresti così sennò mi mando un articolo insegnante ricordiamo potreste dunque una cosa insegniamo piuttosto agli allunni e a non giudicare le persone solamente perché qualcuno getta un'accusa su queste persone questa secondo me è una bella diffamazione vera e propria io sono un po rammaricato per nostro amico fabrizio un po rammaricato anche per me perché appunto mette che noi è come se vendessimo valori subdoli o i leggeri non è proprio così anche perché comunque far venire fabrizio corona all'interno della tua discoteca ha un costo non è che viene gratuitamente ma a un costo sicuramente la promozione di un locale c'è un lavoro dietro da far paura forse questa insegnante non lo sa c'è un lavoro grosso da parte nostra parte lo staff da parte tutti ciò tutti coloro che lavorano come voi come te come matteo che ci riprende di conseguenza uno forse non è al corrente del lavoro che c'è appunto dietro due l'iniziativa un'iniziativa comunque al di là di tutto ovvio lo slogan della serata è un po cattivante ma noi vendiamo spettacolo signora noi vendiamo spettacolo ok fabrizio corona fa parte dello spettacolo e a quello bisogna dare una dimensione no siamo non chiamiamo persone a governare un paese esatto e chiamiamo fare una serata ma fare una serata di conseguenza anche se non si veste da mostro da frankenstein mica per strada bisogna giudicarlo un mostro vuol dire questo è il concetto a questo punto vorrei solo sottolineare una cosa che visto visto la proposta che ha avuto questa questa insegnante appunto di boicottare la serata che proporrei invece di boicottare lo stipendio questo insegnante visto che magari ci sono cose più importanti in questo momento che invece che fare una petizione comunque c'è una petizione contro l'ospedale di corona lanciare una petizione piuttosto a favore della popolazione del tibet ma in questo momento o le guerre civili che sono disparse per il mondo e tutti i temi che possano essi bene o male politici in questo questo momento a temi più interessanti interessanti anche per gli studenti e spiegare comunque che una persona non viene giudicata assolutamente da nessuno ci sono degli organi proposti che posso giudicare noi mettendo un articolo seggiunale o dicendo quello in colpevole lo giudichiamo questo non va fatto ce lo spiegano se non sono piccoli praticamente che uno voglia essere o no cristiano comunque non giudicare è un caposaldo della nostra cristianità questo è uno dei comandamenti è uno dei comandamenti di conseguenza la serata sicuramente sarà una serata da non perdere perché ce ne saranno delle belle faremo un gran festone e fabrizio viene comunque per promuovere anche il suo nuovo sito di gossip sono cose leggere sempre di spettacolo ne parliamo di conseguenza non so che altro dire basta così a questa a questa insegnante sono appena anche lei a divertirsi almeno per una sera si venga il discoteca fa entrare gratis mattia e lo metto in lista omaggio la presentiamo fabrizio ho fatto due chiacchiere anche lei così a modo di capire il personaggio che è il personaggio che non è specialmente boicottando la serata di un locale e specialmente sottoscritto in cui è della stagione che si fa un mazzo tanto per promuovere una zona perché noi da ottobre siamo partiti in una discoteca come locale abbiamo promosso una zona pedemontana abbiamo rianimato un po allora questo serve a tutti quanti serve alla comunità il nostro piccolo lavoro di divertimento serve una comunità per con noi lavorano altre attività di vestiti di macchina di questo e quell'altro ok dunque signor insegnante prima di mettere fuori questi articoli così un attimo di buon senso pensi un attimino un attimo di buon senso dico io e venga a divertirsi sabato prossimo insieme a noi e a fabrizia corona che poi noi siamo sempre gli stessi che abbiamo messo all'inizio anno a disposizione un bus navetta una vetta comunque va a prendere sempre gli studenti che mai non hanno patente li portano a casa li vengono a prendere noi lei non so cosa abbia fatto aveva fatto questo articolo ha fatto qualcos'altro comunque io farò una petizione adesso in tutti i locali d'italia per boicottare lo stipendio della signora il mese prossimo benissimo così mi raccomando votate fabrizio corona non è le elezioni assolutamente grazie mattia e alla prossima settimana ciao grazie a tutti grazie a tutti